Benvenuti in un'altra puntata del TGLT4Blog. La seguente notizia parla dell'Ulss4. Entro l'estate l'inaugurazione della cittadella per la cura dei disturbi alimentari. Ieri una delegazione costituita da personale di Coffcommercio Portogruaro Bibione Carle e dell'Ulss4 ha portato nei negozi di Portogruaro dei fiocchetti Lilla e delle bambole realizzate dalle ragazze della comunità, residenziali Casa delle Farfalle e Colibri. Oggi 15 marzo ricorre infatti la giornata nazionale del fiocchetto Lilla contro i disturbi dell'alimentazione e l'Ulss4 che vanta un servizio per i disturbi del comportamento alimentare di eccellenza coordinato dal dottor Pierandrea Salvo. Non poteva mancare nel sensibilizzare la popolazione su questo tema. I disturbi dell'alimentazione e disturbi del comportamento alimentare sono una patologia sanitaria e danno un impatto sociale che continua ad ampliarsi, interessando ragazze in età sempre più precoce. Basti pensare che al servizio dell'Ulss4 vengono accolte bambine con esordio in età da scuola primaria. La prevenzione, l'immediata presa in carico, la conoscenza di questa malattia possono aiutare concretamente chi ne soffre. Su questo fronte l'Ulss4 ha attivato diversi livelli di cura che iniziano da quello ambulatoriale ed includono anche la riabilitazione in due comunità residenziali, Casa delle Farfalle per minorenni e Colibri per maggiorenni, collocate a Portogruaro. In occasione della ricorrenza del 15 marzo è nata dunque una partnership con Coffcommercio che ha permesso all'Ulss4 di portare questa realtà nei negozi di Portogruaro. Il 2024 sarà tuttavia l'anno della nascita della città dedicata alla cura e al trattamento e disturbi del comportamento alimentare. Entro l'estate verrà inaugurata una nuova struttura da mille metri cubi in via della Resistenza, anessa alla comunità Casa delle Farfalle. All'interno troveranno spazio il centro diurno, la comunità alloggio, gli ambulatori, che attualmente si trovano in via Sommariva. E per i casi più complessi, in giovane età, sono a disposizione anche dei posti letto dedicati nella pediatria all'ospedale di Portogruaro. Il Tg si conclude qui. Ringrazio voi ascoltatori. Vi aspetto alla prossima puntata del Tg LT4 Blog.